Dalle 13 di oggi, si apriranno le prevendite online per i concerti di Vasco Rossi di giugno 2018. Dopo il Modena Park, il celebre rocker torna sui palcoscenici italiani da nord e sud, per allietare gli estimatori con la sua musica. Il celebre musicista di Zocca si esibirà con due date a Torino, Padova, Roma e Bari ed una a Messina tra il 1 e il 21 giugno. Non sono da escludere nuove date da aggiungere in corsa, quindi non disperate. La prevendita dei biglietti è stata affidata al circuito Viva Ticket, società di BestUnion che si è impegnata fin da subito per rendere la vendita trasparente e costantemente rintracciabile, questo per evitare il fenomeno del mercato in nero. Nel corso della prevendita, ogni internauta potrà acquistare un massimo di 4 biglietti per tappa, non dovrà farlo per forza di cose nello stesso momento. I prezzi variano tra i 44 e i 96 euro. Per quanto riguarda gli acquisti online, la spedizione dei biglietti avverrà nel proprio domicilio tramite Corriere Espresso. Aggiornamento di Valencia Gambino In attesa del tour del 2018, Vasco aveva rilasciato delle interviste, raccontando la sua vita. Intervistato per sette, inserto del Corriere della Sera, ha parlato anche del suo Sanremo, il patron ravera mi voleva, io resistevo, suono il rock, cosa vengo a fare? Lui assicurò che potevo comportarmi come mi pareva. Andai per farmi notare. Guardavo tutti come se fossero bambini dell'asilo, anche Albano. Ma non lo feci apposta a gettare il microfono, siccome non riuscivo a infilarlo al volo nell'asta, me lo portai via per darlo al prossimo cantante, ma il filo era troppo corto, e cadde con un frastuono orrendo. In finale vado al massimo arrivò ultima, è vero, ma aveva passato il turno, mentre Claudio Villa era stato eliminato. Qualcosa stava cambiando. Poi ha anche raccontato la dolorosa parentesi sulla droga, una fuga dalla fatica di vivere, ha confessato. Durante quella intervista poi, aveva anticipato anche qualcosa sul Modena Park, il concertone dello scorso luglio, sarà una grande festa. Farò un concerto lungo, canterò finché avrò fiato, del resto il mio sogno è sempre stato morire sul palco. Per fortuna il Blasco è vivo e vegeto. Aggiornamento di Valentina Gambino, dopo la prima chiara precisazione dello staff di Vasco direttamente su Facebook, anche il suo sito ha voluto chiarire al meglio ciò che riguarda la vendita dei biglietti ufficiali per il Tour 2018. Quanto sopra, l'Unione Viva Ticchetta i biglietti e l'Ive Nation alla produzione, NDR, è la migliore combinazione tra società a garanzia di trasparenza dei biglietti, impegno massimo nella lotta al secondario ticketing, Viva Ticket barra Best Union, e di qualità e sicurezza per la parte relativa alla produzione e logistica dello spettacolo, Roberto De Luca, Live Nation e il suo staff. Per la tutela di tutti e dei fan in particolare. I biglietti si potranno acquistare proprio da oggi, giovedì 14 dicembre a partire dalle 13. Ecco le date ufficiali del Rocker, 1 e 2 giugno allo Stadio Olimpico di Torino, 6 e 7 giugno Stadio Euganeo di Padova, 11 e 12 all'Olimpico di Roma, 16 e 17 al San Nicola di Bari, 21 giugno Stadio San Filippo di Messina. Quando Vasco aveva annunciato il suo nuovo tour, aveva parlato solo di 7 date ma, come avete avuto modo di vedere, il numero è già ufficialmente cresciuto. Aggiornamento di Valentina Gambino, Vasco Rossi è pronto per tornare da giugno 2018. Dopo aver pubblicato il calendario delle date ed un chiaro post sul suo sito ufficiale, il celebre Rocker ha voluto chiarire il suo punto di vista spiegando, tramite il suo staff, come procederà l'organizzazione del suo Vasco Nosto Privetour. Tutti si ricorderanno di come Vasco, in seguito alla denuncia del secondary ticketing sollevata dalla trasmissione le Iene praticamente un anno fa, si distaccò immediatamente dal comportamento di rivendita ai siti di bagarinaggio si spiega nel post, che continua, lui fu l'unico a prendere davvero una posizione senza sì e senza ma, affidando tutta la vendita dei biglietti a viva ticket. IT, che si è dimostrata chiara, trasparente ed efficace nel combattere questo mostro che attacca la musica tutta, italiana e internazionale. La vendita dei biglietti online, anche questo anno quindi, è stata affidata a viva ticket, mentre la sua produzione è rimasta nelle mani di Livenation. Questo anche considerato il lavoro sul campo degli addetti ai lavori, che sono tanti, e da tempo dimostrano passione e professionalità per la riuscita del concerto di Vasco, che si sa, anche per loro, abituati a mille eventi, rimane sempre speciale e si legge ancora nel comunicato. Aggiornamento di Valentina Gambino, Vasco Rossi è pronto a replicare il successo con tanto di record registrato al Modena Park con il Tour 2018. Sono trascorsi soltanto sei mesi da quel 1 grado luglio durante il quale il rocker di Zocca ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera di fronte a oltre 220.000 spettatori. Un raduno indimenticabile del popolo rock, in cui il cantante ha ripercorso i suoi successi dagli esordi della sua carriera fino a oggi. Ora la macchina organizzativa del Blasco è pronta a stupire di nuovo tutti con questo tour che sta facendo impazzire i fan che da subito si sono messi alla ricerca di un biglietto. Il comandante si è però attivato sin da subito nella battaglia alla piaga del bagarinaggio online. Dopo il concerto del Modena Park, anche per il Vasco No Stop Tour 2018 la vendita dei biglietti è infatti stata affidata a Viva Ticket, come viene annunciato sul sito ufficiale del cantante. In attesa della vendita, che inizia domani, giovedì 14 dicembre, alle ore 13, è iniziata la prevendita per i soci del fan club di Vasco. Intanto è avvenuta la pubblicazione dei prezzi e dei biglietti per ogni concerto e ogni settore. Riportiamo quelli delle date di Torino e Padova, Torino, Stadio Olimpico, 1 e 2 giugno Prato Gold, 96,60 euro Prato, 78,49 euro Tribuna Ovest, 96,60 euro Distinti Est, 78,49 euro Distinti Est Terzo livello, terzo livello, 54,34 euro Curva Nord, 50,72 euro Diversamente Abili, 50,72 euro Padova, Stadio Euganeo, 6 e 7 giugno Prato Gold, 96,60 euro Prato, 78,49 euro Tribuna Gold Numerata, 108,68 euro Tribuna Centrale Ovest Numerata, 84,53 euro Tribuna Centrale Est Numerata, 84,53 euro Tribuna Fattori Non Numerata, 62,79 euro Gradinata Ovest Numerata, 54,34 euro Gradinata Est Numerata, 54,34 euro Tribuna Ovest Visione Limitata, 48,30 euro Tribuna Est Visione Limitata, 48,30 euro Curva Nord Non Numerata, 54,34 euro Diversamente Abili, 42 euro